Io sono Andrea, rappresento Navarini Rame. Oggi siamo un'azienda leader nella produzione di pentole in rame. Sono Michele Corrà, fondatore di TRETECH, un'azienda che si occupa di progettazione, prototipazione e realizzazione di dispositivi elettronici. Sono Mirko Bonvecchio, sono responsabile industriale di HSL, azienda specializzata in servizi di tecnologia a supporto dell'R&D di industria. Andrea Paternoster, appicoltore. L'azienda che ho fondato si chiama Mieli Thun e si occupa della produzione del miele e soprattutto dei mieli monofloreali, cioè di origine floreale diversa. Le sfide più importanti e anche le più difficili sono quelle di restare sul mercato e restarci in maniera efficace. Per aziende più piccole, specialmente artigianali, e con più generazioni che si sovrappongono, c'è una lentezza decisionale e anche di lavorazione intrinseca che rende un po' più complicato mantenersi competitivi ed attivi sul mercato. di reperire personale altamente qualificato in questi ambiti tecnologici, quindi principalmente ingegneri elettronici e telecomunicazioni, con una forte spinta all'innovazione e alla ricerca di soluzioni che siano legate alle tecnologie crescenti ed emergenti. Nell'ultimo periodo si sono occupati anche di seguire start-up innovative nell'ambito di Internet of Things. Riteniamo che operare nell'ambito dell'open innovation porti grossi vantaggi, soprattutto per la diffusione della cultura delle nuove tecnologie. Sono qui perché crediamo in un modo nuovo di fare le cose. Una delle sfide importanti sarà quella di riuscire a trasferire al pubblico, anche a chi ignora l'importanza di questo alimento, la potenza di un cibo che è prodotto dai fiori e masticato dalle api per noi. Un Fab Lab potrebbe essere utile ad un'azienda come nostra su tantissimi livelli. Strutture come queste possono permettere alle aziende come le nostre di trovare un ambiente in continuo fermento, un ambiente positivo dove ci sono idee, continui confronti e è possibile confrontarci con noi anche proprio con il mondo. C'è anche quindi la possibilità di concretizzare idee perché tutti noi ne abbiamo riguardo al nostro prodotto, cosa ci piacerebbe fare, però spesso quello che mancano sono i mezzi. I Fab Lab da questo punto di vista possono essere l'occasione e il posto per creare delle reti non solo sociali, ma anche lavorative tra aziende che mettano in comunione, che mettano a disposizione competenze per poter sviluppare e rendere concrete quelle che per noi rimangono solo sogni o idee. Ci vuole un aggiornamento continuo che non è legato soltanto alla formazione universitaria o scolastica, ma è legata spesso anche alla propria iniziativa di ricerca e di aggiornamento su tecnologie che quotidianamente crescono, si propongono sul mercato, ma che anche quotidianamente cambiano. In una logica di cambiamento cerchiamo di capire quali saranno gli attori più importanti da qui nel prossimo futuro, in cui ovviamente ci possono essere acceleratori, Fab Lab o anche piccole imprese come Artigiani Puri. Pensiamo di poter supportare questo cambiamento perché noi stessi ci siamo innovati da questo punto di vista negli ultimi dieci anni, in particolare sulla capacità di creare una rete lo vediamo come un elemento determinante. Grazie a tutti.